Le edicole in Italia. Più di ogni parola a parlare sono i dati. Se nel 2001 erano più di 36.000, oggi sono appena 15.000. Situazione oltretutto non certo causata dagli esercenti come te. L'avvento del digitale, infatti, ha disintegrato le vendite di riviste e giornali. Eppure, ci credi? Non siamo alla fine. Piuttosto all'alba di un nuovo inizio. Esatto, all'interno del nuovo assetto economico e sociale. La tua edicola può riaffermarsi come autentica e nuova protagonista nella vita di ogni persona. Come? Offrendo i due maggiori servizi richiesti da tutti, ovunque e in ogni momento. Pagamenti e spedizioni. Come farlo senza stravolgere la tua attività? Scegliendo PagoPoint, il primo e unico servizio in Italia con cui offrire pagamenti e spedizioni tramite un'unica piattaforma. Ti basta un normale PC o tablet e trasformi la tua edicola in un'edicola 2.0. Un centro multiservizio per essere al centro della vita del cittadino. Con PagoPoint diverrai per tutti l'alternativa facile e veloce alle ormai obsolete poste. Risultato? Aumenterai guadagni e clienti. Fidelizzati ed entusiasti, fa autori di spontanei passaparola attorno alla tua nuova attività. Vuoi saperne di più? Prenota una consulenza personalizzata.